Oggi è un giorno importante perché voglio estendervi l'invito a partecipare alla conferenza nazionale della parola della grazia dal 28 al 30 aprile dell'anno 2016 con un tema importante che abbiamo voluto scegliere, il tema è l'uomo soprannaturale. Dobbiamo comprendere che la nuova creazione che Dio ha fatto è soprannaturale, come dice la scrittura, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. È venuto il tempo che la Chiesa prenda consapevolezza della sua soprannaturalità e la esprima a questo mondo. Lo scopo di questa conferenza è incoraggiare tutti quanti, ministri, credenti e tutti quelli che credono in un risveglio affinché il soprannaturale in Italia possa diventare ordinario. Noi vi invitiamo e vi aspettiamo con molta gioia per partecipare insieme a questo evento glorioso dove siamo sicuri che la potenza e la presenza di Dio si manifesterà in maniera potente e vi chiediamo anche di pregare per questo evento affinché possa essere qualcosa che crea un impatto tremendo su tutta la nostra nazione. Vi aspettiamo con affetto. Dio vi benedica. Grazie. Grazie. Grazie.